Fontana d'Air, FZ Pneumatici, tutto quello che è legato al compartimento ruote, da pneumatico al cerchio, bilanciature, si lavora a 360 gradi, dalla vettura al mezzo agricolo, alla moto, all'autocarro, si cerca di fare un qualcosina di piccola meccanica per essere il più completi possibile. Diventare un pochino più padrone di quello che è la mia attività, ragionare di più e più serenamente per salvaguardare quello che faccio, perché è giusto lavorare in modo manuale, ma è anche altrettanto giusto e importante a pensare che la cosa abbia un buon seguito, che questa cosa mi venga riconosciuta a me stesso in soddisfazione personale, si rischia a volte di svendere un po' quello che si fa tutti i giorni. Lo consiglierei perché è una bella percentuale della padronanza della propria attività. Renovami Business Solution Cash Evolution Business Solution Business Solution Business Solution